Benvenuti nel canale Juventus Oggi. Il miglior canale di notizie della Juventus su YouTube, iscriviti al canale per non perderti nessuna novità. L'ex attaccante Paolo Di Canio, che ha disputato 112 partite con la maglia bianconera, ha commentato il caso delle scommesse che ha scosso l'Italia. Paolo Di Canio, oltre ad aver giocato per la Juventus, ha militato in squadre come Napoli, Milan, Lazio e West Ham United. L'ex calciatore in colpa i giocatori per le scommesse sulle partite di calcio. Di Canio ha anche disapprovato il trattamento riservato dai club, in particolare dalla Juventus nel caso Fagioli. Ci sono un milione di cose che potrebbero fare. Scommettete su gatti, cani, criceti. Non sto suggerendo nulla. Certo, sarebbe meglio non scommettere. Hai scommesso sul calcio? Devi essere vuoto. È una stupidità. Devi essere stupido. Ci sono piani diversi. Non stiamo parlando qui di manipolazione dei risultati. Per fortuna, questo non è il caso. Quando sono arrivato alla Juve, provenivo da un quartiere difficile di Roma. Non avevo paura di affrontare il direttore del club. Un giorno, durante un allenamento, Morini mi disse, il presidente Boniperti vuole parlare con te oggi. Ero terrorizzato, davvero, mi hanno fatto aspettare tre ore. Ho chiesto a tutti perché volesse parlare con me. Nessuno lo sapeva. Quando sono entrato nella stanza, Boniperti ha chiesto, dov'eri ieri sera. Ho risposto, sono uscito a cena. Ha chiesto, quando sei tornato a casa, e ho risposto, alle dieci e mezza. È troppo tardi, disse Boniperti. Erano le dieci e trenta e ha detto che era troppo tardi. Ero molto giovane, quindi penso che sia stata una misura preventiva. Davvero, ero terrorizzato. Pensavo che mi avrebbero escluso dalla squadra. Mi chiedevo, cosa ho fatto? Ora i tempi sono cambiati. Non voglio attaccare i dirigenti dei club. Hanno ruoli centrali, hanno molte distrazioni e hanno molte più relazioni rispetto al passato. Ma detto questo, alcune cose non possono essere giustificate. Queste sono state le parole di Paolo Di Canio. Sei d'accordo con l'opinione di Paolo Di Canio? E le squadre hanno una qualche responsabilità per il comportamento dei loro giocatori?